ciao lettrici e lettori bentornati su miss fiction books io sono tiffany e oggi faccio un video davvero diverso dal solito quindi spero che rimaniate con me in questa avventura un po' frevolina ovvero mi sono chiesta spesso se avesse senso o meno portarlo sul canale però insomma ne parliamo già diverse volte durante i preferiti del mese è una domanda che mi fate molto spesso quindi ho pensato a questo nuovo format che si chiama mai più senza 5 prodotti per x che io ho provato durante gli anni e che sicuramente mi sento di consigliarvi parto oggi con il primissimo video che è dedicato ai prodotti per il viso per una pelle secca io ho una pelle davvero molto secca tendente al sensibile quindi ci sono tante cose che a me danno molto fastidio per questo cerco di utilizzare solo prodotti ecobio per quanto è possibile poi vedrete che non tutti lo sono o comunque in generale cosmetici bioattivi formulati naturali insomma tutte cose che hanno a che fare tendenzialmente con meno siliconi solfati eccetera eccetera possibile perché sulla mia pelle che già è secca e già è abbastanza sensibile di solito appaiono degli sfoghi quindi io adesso vi vado a raccontare quali sono quei prodotti che io utilizzo tutti i giorni e vi spiego anche da quanto tempo per il viso con una pelle secca non vi parlo di prodotti che ho usato da poco anzi io non credo nella first impression di nulla soprattutto quando si tratta di trattamenti per il viso quindi sono tutte cose che io uso da almeno 6-7 mesi se non alcuni che uso da più di un paio d'anni quindi direi di iniziare col primo prodotto parto dal detergente per il viso che in questo caso mi vedete l'ho appena ricomprato infatti è nuovo di pacca questo è il detergente per il viso dell'amazuna questo è formulato proprio per le pelli secche quindi se avete la pelle secche questo funziona più o meno come un sapone quindi vi sfregate la nuvoletta tra le mani fa un certo sapone molto molto blando molto molto leggero vi lascia quasi un alone una piccola cremina che si forma sulle vostre mani dopodiché passate a lavarvi il viso è davvero detergente quindi ha un effetto pulente efficace ma soprattutto è uno dei pochi detergenti che ho provato durante il corso degli anni e ne ho provati veramente molti di diversi brand e diverse anche fasce di prezzo e questo è davvero uno dei migliori è forse quello che meno di tutti secca la pelle ed è davvero raro in più ha una composizione quasi unicamente naturale e questo è davvero ottimo il detergente solido che uso io è per pelle secca esiste anche per pelle grassa il prezzo medio è attorno ai 11-12 euro o poco di più dura circa un mesetto un mesetto e mezzo quindi sicuramente il prezzo non è contenutissimo però come vedete è packaging free perché è tutto in cartone ed è un prodotto solido quindi è anche molto comodo per quello io davvero questo mi sono ritrovata a ricomprarlo dopo un po' di tempo che invece avevo provato altri prodotti per la detergenza del viso e guarda casa sono tornata qua quindi insomma questo dovrebbe dirvi anche molto sul prodotto passo avanti al secondo prodotto che è veramente un mai più senza che è il coffin solution di The Ordinary allora questo serve per le occhiaie adesso io sono truccata e nonostante sia molto truccata si vedono ma le mie occhiaie sono davvero a parte congenite quindi io non le potrò mai eliminare perché tutta la mia famiglia le ha e le ha sempre avute e non c'è altro modo di contrastarle nemmeno con la dieta nemmeno con una dieta ricca di tutte quelle cosine che dovrebbero aiutare per me non funziona e io ho le occhiaie davvero molto scavate e nonostante le mie occhiaie siano scurissime e profonde come le fosse delle Marianne sono pure gonfie sotto quindi è un disastro ok capite che per me qualsiasi crema e qualsiasi contorno occhi è diventato problematico durante gli anni infatti qua non vedrete un consiglio di contorno occhi perché io ancora dopo tanti anni avendone provato una quantità esagerata su fasce di prezzo davvero dai pochissimi euro ai tantissimi euro non ho ancora trovato quello che adoro di più ma coffin solution è veramente invece un prodotto che mi sento di consigliarvi molto come vedete qua addirittura insomma non so se si vede ma ne è rimasto così infatti lo devo ricomprare ed è abbastanza complesso ricomprarlo perché è sempre sold out ovunque perché è sold out ovunque perché è davvero ottimo questo è una sorta di siero che voi mettete sulle occhiaie prima ancora di mettere il contorno occhi dovete farlo assorbire come siero è leggermente denso non è proprio super acquoso e questo fa sì che praticamente ha un effetto leggermente tensore e leggermente schiarente e questo aiuta un po' a contrastare quelle occhiaie molto gonfie ma anche molto scure come ho io è chiaro che i miracoli non li fa, non li fa nessun prodotto sulle occhiaie è l'unica certezza della vita però davvero io mi sento di consigliarvelo molto rispetto invece all'efficacia o l'inefficacia che possono avere invece le creme contorno occhi anche quelle davvero più popolari anche quelle che uso io di solito con cui ho più o meno trovato la formulazione che a me un po' aiuta devo dire che questo invece è l'unica certezza che io ho sulle occhiaie passo all'altro prodotto che per me è davvero mai più senza ovvero la crema idratante di I plus M questa è una marca che io ho trovato per caso perché era in offerta più di due anni e mezzo fa su Ecco Verde e è una marca tedesca ovviamente di origine naturale questa versione è l'Hydro Perform che io ho finito quindi adesso non sta venendo fuori praticamente nulla però come vedete è una crema abbastanza leggera si assorbe abbastanza in fretta come vedete non lascia mai idrata per tantissime ore la mia pelle è veramente secchissima soprattutto quella del viso e vi dirò che questa crema che c'è in versione sia idro normale ma c'è anche l'Hydro Plus che invece è super utile d'inverno quando la pelle è ancora più secca questa è la versione perfetta diciamo da la primavera fino all'autunno poi magari per periodi un po' più duri come l'inverno c'è l'Hydro Plus che è ancora più ricca e davvero ti salva la pelle è una maschera senza profumazione quindi chiaramente non vi dà anche irritazione perché non contiene profumi, alcol eccetera ed è anche UV protettiva quindi insomma ha una serie di pregi che davvero uso da tantissimo tempo è una delle poche creme che a me non dà irritazione in alcun modo non mi crea segnetti, non mi crea brufolini, anzi è molto leggera, molto naturale quindi la pelle la assorbe davvero bene, ha un prezzo anche molto contenuto perché costa 15 quella idro e invece 16 e qualcosa quella idro plus quindi capite che è una crema molto abbordabile un po' per tutti e io mi sento sempre di consigliarvela, è davvero il prodotto che uso con più costanza da più tempo e del quale ho veramente una grandissima certezza ora che l'ho finita la devo ricomprare, sto aspettando l'ordine perché sono rimasta senza crema passo a due prodottini che fanno parte di un kit che io ho scoperto grazie a una di voi cioè una ragazza della community che mi ha scritto un messaggio mentre cercavo qualcosa per le occhiaie in realtà vi parlo di questa linea che è di BOJ che io ho trovato da OVS grazie a questo suggerimento preziosissimo e vi faccio vedere le mie due maschere preferite mentre quella delle occhiaie non la trovo così eccezionale non mi fa proprio ribaltare dalla sedia queste due che si chiamano pelle da selfie e otto ore di sonno sono due maschere questa è un po' più, quasi una mousse e invece questa è proprio una maschera purificante più classica allora la maschera purificante è leggerissima non secca eppure effettivamente toglie tutta una serie di impurità della pelle in maniera molto leggera e agile invece questa qui che è quella otto ore di sonno quando ve la togliete avete la pelle più morbida che sia mai stata vista e non ci credete ve lo giuro io non ho mai creduto che questo potesse essere possibile ma è una maschera che allo stesso tempo idrata quindi non vi lascia la pelle come tutte le maschere illuminanti quindi un po' secca, un po' tirata perché se già avete la pelle secca e fate una maschera illuminante vi trovate che vi tira la pelle che vi arriva qua dietro vabbè invece queste due mascherine sono molto adatte le pelli secche che è una cosa che bisogna sempre segnalare perché chi come me davvero ha questo problema che è un problema del primo mondo chiaramente ce ne rendiamo tutti conto questi sono due ottimi prodotti tra l'altro BioJ che è l'azienda che produce questo produce un sacco di materiale per l'estetista cinica e queste due formulazioni sono le mie preferite del kit il kit in realtà è composto da 5 o 6 maschere non mi ricordo queste sono quelle che uso di più insieme a quella per le labbra e davvero mi sento di consigliarvele sia per le componenti prevalentemente naturali quindi anche quello è un aspetto a cui io presto molta attenzione sia anche per il formato insomma sappiamo tutti che le creme soprattutto le maschere quando hanno dei formati un po' grandi tendiamo ad accumularli e poi magari sono da buttare via perché è arrivato il periodo di scadenza perché insomma per quanto possiamo farci maschere tutti i giorni tendenzialmente è dura che le finiamo invece questo formato è molto pratico il prezzo è super contenuto e qua siete certi di finirli infatti io le ho ricomprati adesso sono abbastanza nuovi in realtà questa ovviamente è già un po' più scarica insomma sapete che questo è un formato che finite tranquillamente se poi vi va di ricomprarlo lo ricomprate se invece non fa per voi e non vi trovate bene eccetera potete tranquillamente passare ad altro arrivo invece all'ultimissimo prodotto di oggi che è la luce liquida dell'estetista Cini che voi direte ma è la pelle secca perché usi la luce liquida assolutamente non si usa molto spesso la luce liquida però è veramente un prodotto che io mi sento di definire portentoso la luce liquida è un prodotto illuminante anti impurità quindi è tendenzialmente qualcosa che sfoglia cioè un vero e proprio peeling leggero che si fa ecco io non mi sento assolutamente di consigliarvi di usarne dosi massicce anzi questo però è molto utile in due casi intanto se avete una serie di impurità sulla pelle fare un leggero peeling anche sulla pelle secca è utilissimo molto delicatamente e soprattutto non di frequente va fatto una volta o due a settimana massimo perché comunque la pelle se no si irrita e diventa ancora più secca e l'altro invece utilizzo che io ho è sempre con i brufoli questo non nasce per coprire i brufoletti a me ogni tanto capitano nonostante non abbia una pelle impura però stress, mestro eccetera portano ad avere una serie di brufoli la luce liquida con un battufolino di cotone tamponato sul brufolo è miracolosa perché lo secca quindi non dovete andarvi a squarciare la pelle creare queste cose, questi crateri scuri che non passano neanche a piangere ma se aspettate che il brufolo si secchi e ripetete l'operazione per un paio di giorni il brufolo scompare e sembra che non abbiate mai avuto niente poi il leggero rossore passa davvero nel giro di pochissimi giorni e quindi niente io insomma non ci credevo questa è la travel size cioè anche il formato più grande ma per una pelle secca secondo me il formato più grande è inutile questa va usata con grande parsimonia e grande attenzione per non rovinarvi la pelle però davvero ne ho provati tanti di prodotti dell'estetista cinica con alcuni mi trovo mediamente bene altri non mi fanno impazzire per nulla di altri ancora non ho una buona opinione la luce liquida invece è veramente luce liquida miracolosa quindi io ve la suggerisco tantissimo se non l'avete mai provata provate chiaramente partendo dalla travel size quindi provate un po' a farci l'abitudine seguite un po' i vari tutorial di utilizzo in modo che così potete trovare quello che fa per voi niente io sono arrivata in fondo ai prodotti per il viso sono molto agitata perché questo è il mio primo video beauty guru poraccia come sempre e quindi insomma io spero che siano stati consigli utili terra terra ripeto io questi prodotti li ho utilizzati e provati per tantissimo tempo quindi non vi sto dando un'opinione di chi ha iniziato ieri e poi magari cambia idea e ne prova qualcos'altro quindi insomma spero che siano davvero consigli utili e fate attenzione ovviamente sempre ad acquistare cose che sono adatte alla vostra pelle questa è la cosa più importante quindi chiaramente questi prodotti magari su una pelle grassa sono disastrosi però io mi auguro davvero che insomma questi possano essere dei consigli che per chi è alla ricerca ancora di qualche specificità spero che grazie a questi consigli insomma siano prodotti che possono fare per voi e per il vostro tipo di pelle quindi questi sono ripeto suggerimenti per pelle secca per un viso secco niente direi di essere arrivata in fondo al video di oggi sono molto agitata per questo nuovo format insomma spero vi sia piaciuto spero che davvero sia stato utile fatemelo sapere vi prego perché è una novità sul canale se avete pazienza e voglia ci sentiamo giù nei commenti e spero davvero che sia stato un video utile quantomeno perché ci tenevo a portare anche queste frivolezze cose contenuti un po' più leggerini che d'altronde io alla fine sono una grande appassionata di trucchi e parrucco rimedi della nonna, erbette e così e insomma vorrei farne anche altri magari uno dedicato ai capelli uno dedicato ad altri prodottini e quindi insomma spero davvero che questo format vi sia piaciuto e vi sia risultato utile fatemelo sapere per tutto il resto noi ci vediamo al prossimo video ciao!